Anna! Basta! I tuoi uomini sono stati sconfitti! Tuo fratello è morto! No! Questo è quel che porta alla Trinità. La morte. Ed è quello che porterà sempre. Arrenditi! Ho rinunciato a tutto per questo. Non ho alcuna intenzione di darla alla Trinità. E tuo padre, allora? Non stai condannando a essere deriso dalla storia. Come puoi rinunciare adesso? Ora che sei così vicina. Sono disposta a fare quel sacrificio. Non posso lasciartela prendere. Pensa alle persone che soffrono e muoiono. Noi possiamo salvarle. Possiamo cambiare il mondo. Insieme. Il prezzo è troppo alto, Anna. Non siamo fatti per vivere per sempre. La morte fa parte della vita. Ah, fai presto a dirlo. Non sei tu quella che sta morendo. Ma non si tratta di te. Si tratta dell'intera umanità di proteggere cosa vuol dire essere umani. Arrivano. Siamo circondati. Jacob, attento! La sorgente non è fatta per il mondo. È la tua occasione, Lara. Tutto quello che ho fatto. Tutto quello che hai fatto tu. Non deve morire un altro Croft per questo. Ma sono pronta a farlo. Beh, io no. Ti prego. Sto morendo. È la mia unica speranza. Anna no! 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 Sotto bene. Giacob, resisti! Ho resistito già troppo a lungo. Sapevi che l'avrei distrutta. In tutti questi anni ho conosciuto poche persone eccezionali come te. Sta succedendo. La mia fine. Mi dispiace. Volevo soltanto fare la differenza. L'hai già fatta. L'hai già fatta.